Il caso di Sara Scazzi, un omicidio che sconvolse l'Italia Il caso di Sara Scazzi è uno dei delitti italiani più noti e controversi dell'ultimo decennio, un evento che ha scosso profondamente il paese per le feratezze e per il drammatico coinvolgimento familiare. Questo tragico omicidio ha portato l'opinione pubblica a riflettere sulla fiducia tra i familiari e sulla privacy in una società sempre più invasa dai media. Chi era Sara Scazzi? Sara Scazzi, una quindicenne di Avetrana, un piccolo paese della provincia di Taranto in Puglia, era una ragazza semplice e solare, amata dai suoi amici e dalla sua famiglia. Il 26 agosto 2010 Sara scomparve improvvisamente dopo aver detto alla madre che sarebbe andata a casa della cugina Sabrina Misseri, con la quale condivideva un rapporto molto stretto. La scomparsa e l'inizio delle ricerche La sparizione di Sara suscitò subito apprensione tra familiari e conoscenti. Le ricerche iniziarono immediatamente e coinvolsero non solo le forze dell'ordine, ma anche la comunità locale. Il caso ebbe una risonanza mediatica senza precedenti in Italia, telegiornali e talk show nazionali ne parlarono ogni giorno, creando un'enorme attenzione sulla vicenda. La scioccante confessione Il 6 ottobre 2010, dopo settimane di incertezza e disperazione, il caso prese una piega sconvolgente. Michele Misseri, zio di Sara e padre di Sabrina, confessò di aver ucciso la nipote e di averne occultato il cadavere in un pozzo. Tuttavia, la sua versione cambiò più volte nel tempo, gettando dubbi sulla veridicità delle sue affermazioni. Nei mesi successivi, emerse una nuova verità, non fu Michele, ma sua figlia Sabrina Misseri e la moglie Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia di Sara, a orchestrare l'omicidio per motivi ancora controversi. Il processo e la condanna Il processo fu uno dei più seguiti in Italia e si concluse nel 2013 con una condanna definitiva all'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Gli inquirenti ipotizzarono che l'omicidio fosse avvenuto in seguito a tensioni e gelosie, Sabrina, si dice, nutriva rancore nei confronti di Sara, probabilmente per una gelosia verso un ragazzo di cui entrambe erano interessate. L'impatto mediatico Il caso di Sara Scazzi rappresenta anche uno spartiacque nella cronaca nera italiana per la portata mediatica che raggiunse. Numerosi programmi televisivi seguirono il caso in diretta, inclusa una tragica intervista in cui la madre di Sara apprese la notizia della morte della figlia in diretta televisiva. Questo episodio scatenò un dibattito sull'etica del giornalismo e sull'invasione della privacy nelle tragedie familiari. Il lascito del caso Sara Scazzi Oggi, il caso di Sara Scazzi rimane una delle pagine più nere della cronaca italiana. Ha lasciato una ferita aperta nella comunità di Avetrana e ha acceso i riflettori su temi delicati come il rapporto tra cronaca nera e spettacolarizzazione mediatica, nonché sul ruolo dei media nelle indagini giudiziarie. Questo drammatico evento è un doloroso monito delle ombre che possono celarsi anche nei rapporti familiari e ci ricorda l'importanza di un giornalismo etico e rispettoso della sofferenza altrui. Grazie per averci seguito in questo viaggio nella tragica vicenda di Sara Scazzi. Se volete approfondire ulteriormente il tema della cronaca nera e dei misteri italiani, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube PirataRB per rimanere aggiornati sui nostri contenuti. La vostra opinione è importante per noi, quindi sentitevi liberi di lasciare un commento. Un saluto dal team di PirataRB Grazie a tutti.